Senti, senti? Annusa, annusa l'aria. Funghi, questi hanno funghi. Ma perché non tu provi alla bolognese? Che danno di più? E a me mi pare l'inglese, guarda un po'. Ora cazzo, ci tenta qui, spenta il maledetto. Oh, e ti sei all'eccao un gelato, non è nemmeno una fila, è buono. 3, 7, 10. Senti, ti rifacciamo, dammi 25 euro. Visto uno si faceva uno spinello di droga. Guardi, le mandiamo solo per una volante. E andare meglio a un volo. Voleto, Andy, voleto. No. Perché tu vai a piazzare l'imperatore? Io non ce n'hai una volta. Oh, Bellini, diggiela anche te. No, ragazzi, a me mi mette in mezzo, eh. Per dire, lei fa come faceva la Federica, che dava il culo per salvare la fila. Ho fatto i regali, ti portavo sempre fiori. Dovete cento volte, sono allergici a fiori e lui dai con questi fiori. E noi siamo al mondo, siamo al mondo, siamo al Chiso. No, 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 no. We are the world.